Ciao e bentornati su Annessa e Sari Pixels, il canale che vi fa scoprire un gioco nuovo ogni giorno. Io sono Paolo e oggi parliamo di Shadwen. Shadwen è il nome della nostra protagonista, che dovrà attraversare una serie di livelli accompagnate da una bambina per andare a commettere un omicidio in un gioco che è uno stealth tra i più puri che io abbia mai visto. Allora, primo livello, introduzione, Shadwen e la bambina ammazza un tizio. Flashback, una bambina scappa in una città che è stata in qualche modo occupata da dei soldati o che comunque è sotto il gioco dei soldati che non sono affatto contenti di vederla e ci insegna il movimento base, quello che dobbiamo fare per spostarci all'interno delle mappe. Terza parte, seconda sezione di gioco, prendiamo il controllo di Shadwen che attraverserà un pezzo di città insegnandoci quali sono le particolarità del suo modo di muoversi e del suo modo di agire. Shadwen, da lì in poi, restarà il personaggio che controlleremo per quasi tutto il gioco e avrà la possibilità di muoversi silenziosamente, nascondersi, utilizzare un rampino per agganciarci dalle piattaforme, tirarsi su o dondolare per fare effetto Tarzan da appiglio ad appiglio tanto per capirci, e uccide le guardie e se le prende di sorpresa. Il gioco termina ogni volta che una guardia ci vede non abbiamo la possibilità di stordire la guardia, di fare qualcosa se ci vedono siamo finiti. Il compito nostro sarà attraversare i livelli e non solo e anche fare in modo che la bambina che ci accompagna possa attraversare il livello quindi distrarre le guardie in maniera che lei possa percorrere il tragitto verso l'uscita. In più, particolarità di shadow è molto molto interessante, il tempo scorre solo mentre noi facciamo qualcosa quando noi non facciamo nulla, il tempo sta fermo. Questo ci permetterà un approccio estremamente tattico e estremamente ragionato a quelli che sono i livelli proprio perché potremmo arrivare in un punto, poi staccare le mani dalla nostra tastiera, dal nostro mouse e semplicemente cercare di capire la situazione prima di agire. In più, abbiamo la possibilità ogni volta che ci scoprono e quindi ci compare la scritta game over di tenere premuto backspace per far tornare indietro il tempo di quanto vogliamo che è molto interessante sia se facciamo cose all'interno del gioco che non vogliamo aver fatto quindi vogliamo riavvolgere una qualche azione che non ci è convenuta alla fine come pensavamo perché abbiamo sbagliato magari il timing, sia perché ogni volta che sopraggiungerà la morte noi potremmo ritornare fino all'inizio dei nostri movimenti e ricominciare anche tutto da capo oppure tornare indietro solo di un po' e risolvere il problema che abbiamo avuto se la nostra strategia per esempio è stata corretta ma l'esecuzione non così tanto. Il che, ed è una cosa che io ho adorato, questa meccanica secondo me è bellissima perché fa sì che una volta che noi arriviamo alla fine la storia di Shadwen sia non quella di lasciatemi fare un paragone, prendete Dark Souls, ogni volta che moriamo rilasciamo al falò ma siamo effettivamente morti, cioè il morire ha un effetto riavvolgendo il tempo farà sì che la storia di Shadwen sia sempre, sia stata una storia di un'assassina perfetta che ha fatto tutto giusto fino alla fine, anche se noi sapremo dal nostro punto di vista che non è vero però non dovremo mai in qualche modo giustificare il respawn, il caricamento di un salvataggio piuttosto che di meccaniche che sono esterne al gameplay. Questa meccanica di riavvolgere il tempo l'ho trovata molto divertente e trovo che aggiunga moltissimo all'esperienza di Shadwen e ci permette di sperimentare molto perché il fatto che sbagliare non voglia dire tornare al checkpoint, tanto per capirci vuol dire che noi possiamo sperimentare, vedere cosa succede, ok torna indietro, facciamo qualcos'altro è un gioco che invita moltissimo alla sperimentazione è uno stat puro vi ho detto perché lo scopo nostro sarà quello di arrivare alla fine del gioco senza avere, potendo non aver ucciso nessuno nel tragitto una cosa che è interessante è che gli assassini non saranno in qualche modo penalizzanti per noi ma se la bambina che ci sta seguendo e che in qualche modo abbiamo adottato involontariamente vedrà i cadavere della gente che abbiamo ucciso cambierà la sua opinione di noi che è un deterrente molto più forte a fare le cose con calma e attenzione di quello che non sarebbe semplicemente darci un malus o darci degli svantaggi e un sacco di volte vi capiterà di arrivare in dei punti dove maledetta bambina perché non stai ferma lì mi dai tempo di nascondere almeno questo cadavere perché uccidere a volte è la strada più facile mentre distrarre le guardie sarà più complicato c'è da dire che in questo il gioco fa i salpi mortali per non essere frustrante questo perché la bambina si muoverà con cognizione di causa in maniera automatica quindi noi non dovremmo mai dire alla bambina spostati adesso che da un certo punto di vista è negativo perché a volte non avremo tempo di nascondere i cadaveri ma dall'altro punto di vista è molto positivo proprio perché non dovremmo preoccuparci anche di questa meccanica che sarebbe stata poco chiara per noi su quando far muovere la bambina mentre l'intelligenza artificiale la muove già in maniera assolutamente ragionevole e lei tenderà a tenersi assolutamente lontano dai guai qualche volta questa cosa è tirata un po' troppo agli estremi al punto che a volte l'intelligenza artificiale si incasina e una guardia dovrebbe vedere la bambina ma lei passa comunque osservata ma va bene così perché non trasforma l'esperienza in una cosa frustrante e questo problema avviene così lontano da noi fisicamente ecco in maniera così poco frequente che non distruggerà la nostra immersione nel gioco a meno che non stiamo cercando dei bachi veri e propri che sfortunatamente ci sono i bachi veri e propri nel senso che shadow è un gioco che soffre di bachi e devo dire che questi purtroppo sarebbero da mettere a posto uno dei più grossi è che tipo il tasto per aprire l'inventario non è bindato dovete andare nell'opzione dopo che avete provato tutti i tasti l'inventario non si è aperto e il tutorial va detto aprite l'inventario andrete a cercare nei comandi e scoprirete che dovete assegnare un tasto all'apertura dell'inventario altrimenti non lo aprite oppure ho avuto un problema con una cutscene che è partita prima che l'evento che doveva farla partire si scatenasse però sono bachi abbastanza sporadici e devo dire che non inficiano la parte di gameplay vera e propria i personaggi sono tutti ben caratterizzati sia la shadow che la bambina hanno sia dei miei modelli che delle personalità che dimostrano il loro modo di muoversi e il loro modo di agire l'estetica del gioco è un'estetica medieval dark, medieval e medieval, goticheggiante molto carina, molto consistente molto... all'interno di tutto il gioco è molto chiara è molto ben caratterizzante l'aspetto dell'estetica di shadow e la convoglia molto bene ok mi piacciono molto i giochi che mettono come incentivo a essere giocati in un certo modo degli elementi emotivi e non degli elementi meramente numerici shadow non lo fa lo fa abbinando a questa cosa delle meccaniche originali un gameplay divertente che devo dire perde qualche colpo soltanto nella precisione nei movimenti col rampino usato come liana ma stiamo parlando di cose che proprio grazie al fatto che è possibile riavvolgere il tempo e rifare senza particolare i traumi non pesano sulla qualità del divertimento che noi stiamo giocando shadowing lo trovo molto interessante se vi piacciono i giochi stealth ve lo consiglio costa 17 euro su Steam è stato sviluppato dai Frozen Byte e veramente se i giochi stealth sono giochi nelle vostre corte secondo me shadowing è un gioco molto 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 interessante io vi ringrazio per aver seguito questo episodio vi ricordo di schiacciare mi piace iscrivervi, condividere, commentare fare tutte le cose che i bravi spettatori fanno su Youtube noi ci vediamo al prossimo episodio di Andressa dei Pixels ciao